Il giorno della verità per Robert Gucker, nelle prossime ore infatti Enzo De Vito e il segretario del club bianco-verde Tommaso Aloisi saranno a Frosinone per incontrare la dirigenza del club Ciociaro. L'augurio dei tifosi bianco-verdi è che nel giorno dell'epifania arrivi qualche regalo. L'Avellino ha il centrocampista nazionale austriaco freontiennale con la possibilità però di liberarsi in caso di retrocessione a fine campionato. Una clausola non da poco che dovrebbe convincere il calciatore al quale sono arrivate anche le richieste di Vicenza e Pisa. Gucker comunque non avrebbe, almeno secondo le notizie che arrivano da Frosinone, mai detto di non voler venire a giocare in Irpinia ma il nodo da sciogliere riguarda i rapporti che lo ligano al club laziale. A Frosinone intanto andrà anche Benjamin Mokulu demotivato e spento in questa prima parte della stagione a titolo definitivo. Ovviamente le cifre dell'operazione e il costo del cartellino si agireva intorno al milione e mezzo di euro dipenderanno molto dal rifiuto o dal definitivo sì di Gucker. A sostituire il belga sarà Andrea Cocco, classe 86, che con Marino a Frosinone non trova spazio. L'attaccante sarà girato all'Avellino impresso dal Pescara che ne detiene il cartellino. Alla ripresa degli allenamenti, intanto fissata per domenica pomeriggio al parteneo Lombardi, ci potrebbe essere anche il nuovo primo volto. Si tratta di Lorenzo Laverone, che ha trovato l'intesa col presidente Taccone, per lui prestito con diritto di riscatto in caso di permanenza in Serie B. Per la fascia di terzino sinistro il nome più caldo è quello di Simone Sini, classe 92 dell'Entella, che però richiesto anche da altri club di Serie B. Le alternative si chiamano Giovanni Marchese, ex Genoa da diversi mesi svincolato, e Gossino Garofalo, vecchia fiamma di Enzo De Vito, che però sta giocando con continuità a Venezia. In uscita infine c'è una notizia che riguarda Pierluigi Frattali, subito dopo la gara di Latina, il DS Faggiani del Parma ha contattato l'enturaggio del portiere per capire la sua situazione contrattuale con l'Avellino, in scadenza l'anno prossimo. Il Parma sarebbe ora pronto a formulare un'offerta importante. Saremo a vedere cosa succederà.